Richiesta di giudizio immediato per il sindaco di Rofrano, Nicola Cammarano, il sostituto procuratore Roberto Penna, che sta seguendo le indagini dopo il passaggio delle competenze alla procura distrettuale, ha presentato questa istanza al GIP del Tribunale di Salerno. Ci sarebbe infatti, secondo Penna, l'evidenza della prova, tanto da far partire immediatamente il processo, evitando l'udienza preliminare in cui di solito si filtra tra il rinvio a giudizio e l'archiviazione. A far decidere Penna per una richiesta così drastica sarebbero stati numerosi file rinvenuti all'interno di uno dei PC dello studio da commercialista del primo cittadino, tutti contenenti immagini di ragazzine, impose e movenze da Lolita, nonché alcuni particolari emersi durante proprio l'interrogatorio di garanzia del sindaco quel giorno in cui è rimasto in carcere. Un fulmine a ciel sereno per Cammarano che dopo l'arresto lo scorso 19 febbraio e l'immediato ritorno a casa nel giro di 24 ore tra il sostegno dei suoi concittadini, sperava che questa vicenda avrebbe seguito i normali passi giudiziari, senza più sensazionalismi, senza più brutte sorprese. Sono rimasto esterefatto questa mattina, ha detto Cammarano, quando ho visto tutti i giornali con questa uscita. Indignato è anche il suo avvocato Vincenzo Speranza che ha commentato una notizia di evidenza processuale che viene diffusa sulla stampa prima che la stessa difesa ne sia a conoscenza e quando ancora si attende il verdetto del riesame è un fatto di una gravità inaudita. Cammarano con il suo avvocato sta valutando dunque ogni ipotesi di azione, anche disciplinare, arrivando fino al CSM per tutelarsi da quello che ritiene un abuso. Ora però bisognerà comunque attendere la decisione del GIP, se accetterà la richiesta del sostituto Penna dovrà fissare la data del processo, altrimenti in caso di rigetto dovrà stabilire il giorno dell'udienza preliminare. Intanto le indagini vanno avanti per risalire al giro da cui possono essere arrivate le foto e i video rinvenuti e dunque agli sfruttatori delle vittime minorenni. Si attende anche la decisione del riesame sulla validità del decreto di perquisizione, un dubbio sollevato proprio dalla difesa di Cammarano circa il provvedimento che avrebbe poi dato il là a tutta la vicenda. Furono infatti i militari della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, nel corso di normali controlli finanziari e all'attività professionale del sindaco, a perquisire i PC e a rinvenire il materiale apponendo i sigilli allo studio e proseguendo poi alla perquisizione dei computer di casa e del comune.